Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic e benvenuti in un video post presentazione Denuncia sociale Io non ho parole perché noi veramente oltre ad essere possessori sempre ogni anno di questi iPhone e utilizzatori per lavoro appunto perché lo sapete ormai comunque lo utilizziamo con AirDrop come seconda camera quando facciamo le riprese nella build dell'altro giorno Lo strausiamo Sempre presente come seconda camera ormai è uno strumento di lavoro per noi Essere qua sembra quasi che li vogliamo ammazzare però ovvio che come quando AMD fa 10 e tu da Intel ti aspetti sempre di più perché è un'azienda più grossa, da Apple ti aspetti tanto e quando poi vedi questo risultato, bah, non ci siamo Ma giustifichiamo questo titolo, andiamo passo per passo perché Apple di fatto in questa presentazione di un'oretta e mezza buona Ha presentato tante cose nuove, tante cose nuove e non tutte negative Badate bene, quindi diamo con ordine un attimino Ha presentato delle nuove cuffie, le Apple AirPods Pro nuove che sembrano veramente fighe ovvio un prodotto di questo tipo va provato perché se non lo senti esteticamente uguale a quello vecchio le novità sono interne e sembrano essere veramente interessanti oltre ai controlli touch Appena lo compriamo andiamo in un cantiere cerchiamo uno con un trapano pneumatico e voglio vedere se fa effettivamente quel risultato lì Hanno presentato anche la nuova linea Apple Watch Apple Watch SE, Apple Watch normale, Apple Watch 8 ovviamente Apple Watch Ultra che è quello su cui hanno basato buona parte della loro presentazione che effettivamente raccoglie parecchie novità è un prodotto per ovviamente, non saprei neanche a che target dedicarlo non so neanche quanti di voi potrebbero utilizzarlo queste cose qua perché normalmente le persone vanno in palestra e fanno uno sport tranquillo cioè sono veramente poche le persone, anche noi nella nostra vita ne conosciamo una forse che fa quel livello che potrebbe aver bisogno in montagna di questi tipi di oggetti però ha talmente tante cose dentro che è veramente difficile collocarla in una fascia di cioè noi abbiamo ironizzato durante la presentazione dicendo che gli americani chissà che cacchio fanno là nel loro paese perché veramente sembra che vadano tutti non hanno più le strade hanno tutti quanti un paese fatto di montagne non ce l'hanno le case cioè per andare da una casa a scuola però effettivamente è un contesto un po' anche il satellite dell'iPhone è una cosa che qua in Italia può essere utile ma veramente va detto che bisogna vedere il supporto qua come sarà che quello è tutto da vedere però comunque ha un'utilità che è quella che è, ecco, oggettivamente ma passando al succo alla big, diciamo, presentazione quella che aspettavano tutti quindi i nuovi iPhone la grande delusione per quello abbiamo titolato in questo modo non è tanto che abbiano presentato poche novità che abbiano fatto vedere che non è vero perché di fatto ci sono delle novità fighe anche e che ci sono effettivamente piaciute il problema sono gli iPhone e non gli iPhone Pro noi capiamo che la linea Pro è comunque la linea di riferimento è la migliore quella più, diciamo, viva e ci sta che sia il nuovo quello che fino agli anni scorsi era l'iPhone normale però l'iPhone normale capisco che per motivi di marketing un XR non ha funzionato perché al consumatore sembra di avere in mano qualcosa di meno pregiato qualcosa di meno bello perché non è un iPhone è un iPhone XR vale meno ma poi hanno riaggiustato peggiorando l'iPhone normale quindi facendolo diventare un XR però è un iPhone normale a tutti gli effetti da oggi da questa generazione ormai ok, è un iPhone ma se tu hai un iPhone normale è semplicemente il modello Pro dell'anno prima esatto né più né meno l'hanno riciclato, rimesso lì e buttato lì papale, papale perché di fatto in questo anno in particolare perché non è cambiato il design non è cambiato il chip perché hanno letteralmente hanno dato un overclockino sulla GPU giusto per non farti vedere che è uguale va bene ma è allucinante un core in più c'ha ma giusto per giustificarlo è allucinante vedere su un iPhone nuovo il processore dell'anno vecchio ha problemi di non è successo quando c'erano i problemi 2020 e 2021 problemi allucinanti mondiali succede nel 2022 quando ormai c'è una offerta di chip importante con una domanda calata tantissimo e ve lo ripetiamo nei video l'inflazione non c'è nell'elettronica non c'è c'è in tutto il resto ma così tra l'altro voi dite vabbè hanno fatto il Pro nell'iPhone dell'anno dopo va bene cioè me lo fai a un prezzo da iPhone il punto focale è che sono i prezzi a sballare il tutto e non tanto i prezzi che hanno annunciato loro perché chiaramente da loro le cose sono un po' diverse c'è stato giusto un minimo di cambiamento nel prezzo nel confronto euro-dollaro che ha un po' sballato tutto quanto e quindi di fatto loro non hanno aumentato i prezzi dichiarati per la loro line-up di iPhone però da noi cazzo si sono aumentati a me quello che fa in America sinceramente a noi non ce ne feria niente perché il 99.9% di potenziale acquirente di questo video se lo compra in Italia quindi dobbiamo guardare i prezzi italiani al massimo europei quello che potreste comprare e ragazzi l'euro è completamente lo sapete ha perso il 10% negli ultimi nell'ultimo periodo e questo ha inciso ovviamente ci sono poi loro ci hanno speculato ulteriormente sopra perché è oggettivo parlare di speculazione perché c'è un aumento molto superiore rispetto a quello che è il banale 10-8% non c'è un iPhone sotto i 1000€ l'iPhone nuovo non è sotto i 1000€ il normale nel taglio più basso parte da 1000€ cioè il normale nel taglio più basso e non ha feature nuove raga non ha feature nuove perché non parlatevi del satellite del crash del coso degli incidenti perché non sono feature nuove quelle cioè sono feature nuove la maggior parte di voi ce l'ha già nella macchina con l'assicurazione quella roba lì che vi chiamano cioè è una cosa che serve e oggettivamente non serve perché comunque ripeto non è una cosa noi non abbiamo le città americane dove c'è un abitante per chilometro quadrato qua basta che basta che tocchi dentro la targa della macchina davanti sono 50 persone che possono vedere cosa hai fatto hanno già chiamato in 12 l'ambulanza no ma no non sono così buoni vengono a farti i cazzi tuoi cioè vedere che cosa è successo ma non è che non è che siamo più buoni di loro siamo in un ambiente diverso quindi l'utilità è quello che è poi magari per qualcuno qui in questo paese qualcuno che guarda in parti meno densità densamente popolato ok ma per noi è veramente una feature che non ha senso e i prezzi sono veramente allucinati cioè non c'è un iPhone sottimille euro ma poi la considerazione quella più grave da questo punto di vista è proprio che il divario che c'è tra una novità che tra l'altro non ha neanche grandi novità a livello di implementazione software cioè la scocca è uguale le fotocamere sono migliorate tutto quello che vuoi però non ha grandi novità anche lato software come magari c'è per quanto riguarda i modelli pro tra l'altro dicevano dati a caso che tu non capivi verso cosa erano riferiti quei dati nella presentazione l'hanno detto forse un paio di volte poi tra l'altro oggettivamente come è successo con il macbook pro che abbiamo il macbook air 2 che abbiamo estremamente bocciato apple fa una cosa inspiegabile presenta un 13 pro e poi fanno un 14 pro lo che comunque rispetto a quello che ci aspettavamo è comunque un ottimo aggiornamento assolutamente mi aspettavo molto ma molto di meno effettivamente vabbè al di là delle pompate della dynamic island che effettivamente però è figo dai l'hanno implementata bene è implementata da dio perché solo solo apple poteva riuscire a fare una roba del genere con animazioni che effettivamente sembrano molto fluide si integra molto bene nell'utilizzo dello smartphone per come siamo abituati a farlo giornalmente quindi è una cosa che però ha anche un po' diviso le masse e ci sta come al solito tutto il concetto legato al notch tutto il concetto legato alle fotocamere frontali però a me piace divide sempre però parlatemi di pillola parlatemi di dynamic island è una figata di fatto è una ottimizzazione di quello che tutti gli altri hanno fatto buttandoci lì un buco per metterci le fotocamere hanno migliorato le fotocamere hanno migliorato il display che adesso ad esempio è uno hanno raddoppiato quasi la luminosità fino a 2000 hits probabilmente sul pro 16 sul pro max sul pro normale 16 però comunque è un upgrade consistente hanno cambiato la faccia del telefono il nuovo colore carino hanno cambiato le fotocamere migliorati i video cambiato le UI completamente lo always on display lo always on display dopo dieci anni dopo dieci anni no però dopo un bel po' di anni ce l'ha messo cioè ha comunque il nuovo processore importante che gestisce anche hardware appunto questa novità qua con la parte che gestisce tutta la parte che gestisce proprio la dynamic island esatto e il display perché c'è un chip apposta e la frequenza di aggiornamento del display cioè è comunque un aggiornamento carino qual è il problema che tu dici cioè alla fine costa 250 euro in più rispetto all'iPhone normale tu dici eh 250 euro sono tanti aspetta su 500 se il telefono costa 500 euro un pixel 6 che è street price e tu mi dici quell'altro costa 250 euro io ti dico sono tanti te lo dico prima il 50% ma nel momento in cui spendi 1030 euro per un telefono cioè quindi hai già un budget oltre i 1000 euro a quel punto dipende il pro è quello il fatto cioè il divario è troppo poco è troppo basso cioè l'iPhone non conviene cioè chi ha più di 1000 euro da spendere per uno smartphone vuole l'iPhone perché deve prendere l'iPhone 14 tra l'altro l'iPhone 14 il base costa più di 1000 euro il plus costa già 1100 euro per cui già lì siamo ancora di meno come divario con la gamma pro per quale scopo risparmiare 200 euro io veramente non capisco anche perché poi e qua rimaniamo solo in Apple cioè Apple sta facendo come col MacBook Air sta facendo questi casini che auto si fa autoconcorrenza da solo con dei prezzi con dei posizionamenti oggettivamente inspiegabili quando poi cioè se vai nel mercato Android un utente normale con un Pixel normalissimo cioè secondo me costa la metà di questo iPhone 14 se la cavalla stragrande proprio se la cavalla stragrande adesso vediamo quelli che usciranno i 7 che usciranno fra un mesetto però poi dipende quando usciranno in Italia verranno presentati fra un mesetto però io sinceramente anche col Pixel 6 non ci vedo veramente un esso compiuto del doppio del prezzo di questo iPhone oggettivamente del base il Pro è un bel telefono se lo utilizzi come noi grazie al cazzo è il nostro lavoro non ci paghi l'IVA vendi il telefono vecchio e già il problema prezzo viene ridimensionato i prezzi ormai stanno raggiungendo 1300 euro quindi inizia a essere anche per i fighetti dell'aperitivo con l'iPhone inizia a essere abbastanza proibitivo c'è sempre la dilazionamento in rate quindi si può sempre fare con le varie modalità anche lì ormai molti lo pagano a rate e comunque gli iPhone vengono ottenuti tanto anche 3-4 anni 3 anni molti lo utilizzano non 2 anni anche 3 anni tranquillamente e quindi dilazionando il pagamento su 3 anni quei 250 euro diventano ancora meno un ostacolo all'acquisto però hai un effettivo cambio un effettivo miglioramento nel telefono è un altro dispositivo accedi appunto al nuovo chip quindi anche a livello di futuribilità del telefono hai qualcosa di un pochettino più sostanzioso in mano hai un telefono con delle funzioni effettivamente nuove con una faccia con un chip a 4 nanometri una cosa veramente nuova con un comparto fotografico che è un'altra roba ovviamente rispetto al modello base perché ci puntano tantissimo e anche questa volta l'hanno riconfermato ancora una volta che ci puntano tantissimo anche se lato video l'hanno un po' snobbato beh perché non c'era tempo ci hanno dedicato una miriade di minuti nell'ultima presentazione per l'ultima generazione quindi va bene così però scusate se devo comprare un iPhone 14 base mi compro un 13 usato tanto è usato anche quello perché alla fine è uguale a quello vecchio praticamente uguale a quello vecchio mi prendo il 13 Pro vecchio usato da qualche o magari qualche offerta che uscirà sul 13 Pro magari costerà anche meno infatti di quella cifra lì me lo porta a casa a meno perché io veramente non capisco queste differenze di prezzo e questi posizionamenti cioè veramente l'iPhone è comunque l'iPhone cioè è stato veramente cioè una novità seria non l'hanno messa cioè non c'ha la CPU il cuore del dispositivo manco è aggiornato la scocca è riciclata da quelli vecchi cioè per le economie di scala io boh è per quello abbiamo titolato in questa maniera così forte effettivamente perché l'impressione è proprio quella che Apple stia cercando in tutti i modi di affossare la sua linea base per spingere la linea Pro però a quel punto cioè non ha neanche senso spendere tempo a fare semplicemente il copia e incolla del Pro vecchio sull'iPhone nuovo cioè ma comunque l'iPhone 14 era un iPhone era qualcosa di a sé stante vedevi seguiva delle novità del vecchio quindi avrebbero dovuto farlo come il nuovo con il display diciamo col nuovo notch tenetemi con l'Island con la Dynamic Island Dynamic Island magari tenendo una CPU meno prestante ma anche piuttosto anche ti potevo passare anche la vecchia in un periodo come questo però qualcosa mi dovevi far sentire che era nuovo qualcosa che io sto spendendo mille euro nel 2000 a fine 2022 per qualcosa contemporaneo al periodo in cui lo sto pagando ci hanno fatto la novità del notch nuovo questa fantastica isola dinamica perché non implementarlo anche sull'iPhone me lo fai meno potente me lo fai col chip vecchio ma perché non me la metti lì perché non può gestire l'hardware probabilmente perché non lo può gestire mi sa proprio di vecchio mi sa proprio di nessuna novità cioè mi hai fatto un coppia e colla il Pro a me non è dispiaciuto sinceramente no l'aumento di prezzo ovviamente rimane sensibile perché dal top di gamma assoluto della scorsa generazione 1800 e rotti andiamo oltre 2100 euro cioè praticamente abbiamo sconfinato i MacBook Pro stiamo toccando siamo nel terreno MacBook Pro è vero e inizia a diventare pesante a livello di prezzi la concorrenza comunque a cui prezzi offre prodotti completamente innovativi e diversi di pensiero perché un Fold è un qualcosa che comunque richiede ricerca e sviluppo un qualcosa un pensiero una roba proprio diversa freschezza poi non ti dico che sia uguale non vi dico che è uguale che è meglio perché quello dovete vederlo voi freschezza diversità c'è la concorrenza che ti offre con i Pixel che veramente hanno perché poi Apple se la mena con l'integrazione hardware software i Pixel allora ce l'hanno anche loro e te li vendono a 500 euro è il base dell'anno scorso che secondo me è alla metà li vali tutti rispetto all'iPhone a quei prezzi di un iPhone del 2021 stanno mantenendo la loro elitarietà in un certo senso facendo prodotti sforando nel lusso 1000 euro per un Apple Watch 2139 stiamo parlando di 3100 euro per la copiata di top di gamma stiamo un po' pisciando fuori dal basso ma anche parecchio le condizioni che hanno portato questi aumenti sono anche dovute alla situazione geopolitica europea e lo diciamo sicuramente quello Apple ci ha messo del suo sicuramente hanno avuto degli aumenti anche loro sicuramente però ecco poi noi dobbiamo valutare il valore in base al costo e i nostri guadagni non fanno più 30% l'anno non tutti o meglio e quindi oggettivamente se c'è un pixel a 500 euro o vediamo i pixel noi quanto escono boh vediamo come detto voi state vedendo la critica massiccia perché effettivamente noi l'avete capito ce l'abbiamo con una parte di presentazione quella degli iPhone ovvio come detto lo sapete lo usiamo tantissimo come strumento di lavoro quindi il Pro probabilmente ce ne doteremo entrambi perché quest'anno ci può stare dotarsene entrambi perché è di fatto uno strumento valido a tutti gli effetti è completamente diverso non ci paghi l'IVA è un costo completamente diverso se uno deve pensarci adesso io privato che non lo uso per lavoro spendere quei soldi lì è ovvio che veramente inizio ad avere un po' di pesantezza sullo stomaco ma un po' tanta sinceramente non lo farei mai cioè diventa un po' troppo per uno sfizio questo però chiaramente è il nostro pensiero abbiamo visto che bene o male è un pensiero abbastanza condiviso fino ad adesso quindi fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate voi se anche voi condividete e ricordatevi che domani è l'ultimo giorno gaming week per usufruire degli sconti quindi ragazzi iscrivetevi qua sotto al canale tenendo le offerte per trovare le ultime scontistiche disponibili sono anche degli sconti personalizzati di Deepcool su alcuni prodotti esatto infatti sui nuovi dissipatori quindi ragazzi come detto veramente abbiamo bisogno fisico della vostra opinione scambiarci opinioni perché a volte anche noi veramente dico io non me lo spiego ne abbiamo sempre bisogno del vostro parere diteci voi siamo noi che abbiamo una lo pensiamo male o abbiamo ragione e alla prossima ragazzi ciao ciao Grazie a tutti.